Allora, lavoro di squadra, lo Spezia non vince da 12 giornate, il Lecce ha perso una sola volta nelle ultime 13, come è finita oggi? Pari, 1-1 E allora 1-1 ce lo racconta Paolo Paganini Spezia senza Erzag e Zaninelli, squalificato in attacco, rientra Guidetti, Lecce al gran completo, arbitra D'Amato di Barletta Tanto Lecce e poco Spezia nei primi 45 minuti di gioco Angelo tra i migliori dei suoi, dentro in verticale per Tiribocchi, la sua conclusione va sull'esterno della rete Andiamo al 18esimo, ancora Angelo vede e serve Tiribocchi sul filo del fuorigioco, tempestiva l'uscita in due tempi di Santoni Andiamo al 20esimo minuto con l'incertezza della difesa dello Spezia, la conclusione però alta di Abruscato Episodio discusso al 21esimo, attenzione perché palla arriva a Guidetti, Cottafava lo mette giù D'Amato fisca il calcio di punizione ma non estrae nessun cartellino, Cottafava 10 minuti più tardi verrà ammonito Lo Spezia in questa punizione al 34esimo di Guidetti para senza problemi Benussi Ancora il Lecce, ancora Angelo, dentro la deviazione al volo di Abruscato, palla alta sulla traversa Andiamo alla ripresa con il montaggio di Andrea Raggiotto, 27esimo, è il gol dello Spezia, il gol di Eliacu Sul servizio di Millesi, rivediamo lo scatto e la conclusione ravvicinata del nigeriano Ma subito entra Valdez al posto di Ariatti e attenzione a Valdez perché dopo 30 secondi mette dentro il gol dell'1-1 Rivediamo la conclusione del fantasista del Lecce Poi il Lecce ci crede, al 39esimo viene espulso per doppia ammunizione Ceccarelli Espulso anche per proteste Soda Gran finale della squadra di Papadopulo con l'attacco da parte di Munari Per Corvia la sua conclusione, Santoni riesce a respingere, a mettere il pallone in calcio d'angolo Poi al 47esimo esce a vuoto Santoni ma Corvia non riesce a mettere il pallone in rete Finisce 1-1 il Lecce in attesa dello scontro diretto di martedì sera contro il Brescia Getta via una buona opportunità per avvicinarsi al vertice della classifica Un altro pareggio invece per lo Spezia che ormai è una costante di questo campionato Non riesce a gestire il gol di vantaggio Linea a Franco Lauro Grazie a Paolo Paganini che dà 5 e mezzo ad Amato Un episodio qui alla Paviola Andiamo a vedere nel finale l'espulsione di Ceccarelli di Soda Netto è il fallo perché va direttamente sul piede destro Lo prende, Ceccarelli su Corvia Poi qui doppia munizione, giusta l'espulsione Poi Soda per protesta e viene espulso anche lui Quindi per me la decisione dell'arbitro è giusta E allora chiedo inserire Grazie a tutti